La Lega è estremamente preoccupata per il clima in cui versa il Paese. Io penso che Renzi stia pensando di instaurare un regime che mi ricorda quello di Stalin, perché abbiamo un Parlamento comprato, abbiamo un governo inginocchiato, abbiamo buona parte della magistratura schierata e da ieri anche la televisione pubblica militarmente occupata. Quindi la storia insegna che quando controlli l'informazione, l'esecutivo, il legislativo e il giudiziario c'è il regime. E quindi a me l'aria e la puzza di Unione Sovietica e di Stalin non piace. I dati economici sono devastanti. Oggi è uscito l'Oxe che sputtana tutte le previsioni di Renzi e di Padoan e dice che se l'Italia va bene crescerà al massimo dell'1% l'anno prossimo. Sul fronte invasione clandestina, e ripeto, invasione clandestina senza precedenti, se c'è qualche magistrato che vuole indagarmi lo faccia pure, siamo al collasso. Abbiamo un ministro che sta cercando altri 50.000 posti in albergo in giro per l'Italia, mentre tutto il resto d'Europa chiude e controlla. Quindi io temo a breve reazioni popolari, di cui abbiamo avvisaglie certe, e quindi per evitare lo scontro di piazza, la Lega da oggi si mette a disposizione di tutti quelli che sono stufi. Stiamo pensando a una grande manifestazione a livello nazionale nella giornata della liberazione, perché qua c'è da portare avanti una nuova liberazione. Quindi per il 25 aprile diremo alla nostra e chiameremo a raccolta tutti gli italiani che non vogliono vivere da schiavi, precari e insicuri. I teatrini fra gli eurofessi e quindi i finti litigi fra Monti, Renzi e compagnia Briscola, fra cui includo anche Napolitano, non prendono più in giro nessuno. Quindi la nostra pazienza è esaurita, più che della Lega del Paese. Oggi mi hanno scritto alcuni terremotati che dopo quattro anni vivono nei container in Emilia, ai quali stanno staccando la corrente elettrica, perché non avendo più lavoro non riescono a pagare la corrente elettrica. Quindi c'è un ministro dell'invasione che sta cercando 50.000 posti in albergo, mentre qualche migliaio di italiani vive nel container da quattro anni senza luce. Siamo al terzo mondo e questi occupano il Parlamento con la menata delle adozioni gay. Siamo veramente al terzo mondo. La nostra pazienza è esaurita. Spero che lo sia anche quella degli alleati. Spero che lo sia anche quella degli alleati. Lo verificheremo se così fosse, si marcia con Patti, se qualcuno invece avesse dei dubbi non marcia con la Lega. Questo è, sulle vicende giudiziarie non entro nel merito, mi sembra che forse neanche a Cuba o in Corea del Nord ci siano i vertici giudiziari che dicono che un partito è pericoloso per la democrazia. Forse questi signori dovrebbero andare a esercitare il loro lavoro a Cuba o in Corea del Nord, in uno stato libero dove il pensiero dovrebbe essere libero. Però sono estremamente preoccupato perché quando occupi militarmente i tribunali, le scuole, le televisioni e le banche la gente di solito fa la rivoluzione. E siccome io sono pacifico dentro e fuori vorrei organizzarla democraticamente questa rivoluzione. Sappia il signor Renzi che da oggi è battaglia su tutta la linea e su tutti i fronti a cominciare da settimana prossima. E poi ci vediamo in piazza il 25 aprile pacificamente, democraticamente, come siamo soliti fare. Questo è, se ci sono domande rispondo a tutto volentieri. Se no va bene così. Non so quanti capi di imputazione mi merita questa conferenza stampa ma non me ne può fregar di meno. Grazie. Grazie.